In questa video lezione vedremo quali sono le tipologie di iter procedimentali previsti dalla legge regionale 24 del 2016 in materia di SUAPE e quali sono le modalità per scegliere e individuare la corretta tipologia di procedimento fra quelli disponibili. La legge regionale 24 del 2016 prevede che il procedimento unico presso il SUAPE ha inizio sempre con la presentazione di una dichiarazione autocertificativa sul sistema informatico regionale SUAPE. L'interessato per ogni pratica deve indicare obbligatoriamente un domicilio elettronico quindi un indirizzo PEC che può essere il proprio o quello di un'altra persona a cui ricevere ogni comunicazione relativa alla pratica stessa. La dichiarazione autocertificativa deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio per tutti i casi che sono direttamente attestabili dall'interessato e dalle dichiarazioni asseverative di conformità alla normativa vigente quando necessarie rese da tecnici abilitati all'esercizio della professione. Oltre a questo in ogni pratica è spesso necessario allegare altri documenti come elaborati progettuali, relazionali eccetera utili a verificare l'effettiva conformità dell'intervento alla norma vigente. Da questo punto di vista il sistema informatico regionale è oggi evoluto in quanto selezionando l'intervento iniziale e rispondendo alle domande via via proposte è tale da associare automaticamente tutti i moduli necessari per la specifica pratica e all'interno di questi moduli si può trovare l'elenco degli ulteriori documenti che devono essere allegati caso per caso. La norma prevede due tipologie principali di procedimento che sono il procedimento in autocertificazione e il procedimento in conferenza di servizi per tutte le pratiche ordinarie. Il procedimento in autocertificazione si suddivide a sua volta in un procedimento in autocertificazione a 0 giorni e in un procedimento a 30 giorni a seconda che l'intervento sia realizzabile immediatamente o trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE. Il procedimento in autocertificazione è il procedimento ordinario che si attiva presso il SUAPE e si può attivare in tutti i casi tranne quelli che prevedono la presenza di valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione o quelli che prevedono la necessità di rilasciare un provvedimento espresso imposto dalla normativa dell'Unione Europea. Abbiamo quindi poi il procedimento in conferenza di servizi che deve essere attivato in tutti i casi nei quali non è possibile attivare un procedimento in autocertificazione e quindi dove vi sono delle valutazioni discrezionali o dove la normativa dell'Unione Europea impone la necessità di un provvedimento espresso. Abbiamo poi una serie di procedimenti di altra tipologia come possono essere quelli di accertamento di conformità e in generale di sanatori edilizie con il rilascio di provvedimenti espressi, il procedimento di proroga di titoli abilitativi e la richiesta di parere preliminare che vedremo nelle prossime video lezioni in maniera specifica perché sono delle tipologie di iter speciali che si riferiscono solo a determinate fatti specie. Per individuare la corretta tipologia di procedimento da attivare uno strumento molto utile è la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi che costituisce l'allegato B alla deliberazione di giunta regionale con la quale sono state approvate le direttive su APE. Vedremo tra un attimo dove reperirla. In questa tabella sono indicati tutti i singoli titoli abilitativi che possono essere parte di un procedimento unico su APE con i relativi riferimenti normativi. La tabella ci indica anche qual è il regime amministrativo previsto dalla norma di settore e quale è l'iter amministrativo che deve essere seguito quando quel determinato titolo abilitativo è conseguito per il tramite del suo APE. La tabella di ricognizione dei regimi amministrativi può essere reperita sul portale Sardegna Impresa accedendo a sportello unico quindi normativa e scaricando la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi in questa pagina. Come vediamo in questo documento sono riportati tutti i titoli abilitativi. Prendiamone uno ad esempio dove ci indica la descrizione. Il regime è previsto dalla normativa settoriale quindi ad esempio per l'apertura, variazione del settore merceologico, trasferimento e ampliamento di un esercizio di vicinato ci indica una comunicazione a efficacia differita di 30 giorni. Questo è previsto dall'articolo 4,2 della legge regionale 5 del 2006 che si traduce in ambito su APE quindi nell'ambito della legge regionale 24 del 2016 in un procedimento in autocertificazione a zero giorni senza asseverazione. L'ente competente in questo caso è il comune. Troviamo quindi poi una colonna che indica la concentrazione dei regimi amministrativi e ci indica i più probabili titoli abilitativi connessi a quello che stiamo considerando a seconda delle caratteristiche dell'attività. Vedete qui per l'esercizio di vicinato ci indica i farmaci da banco, i medicinali veterinari, gli alcolici fitosanitari, mangimi preziosi e via dicendo. E infine una colonna di note dove sono riportate utili note a specificare l'adempimento amministrativo. Un altro strumento molto importante per individuare la corretta tipologia di procedimento applicabile ai singoli casi e anche se vogliamo più fruibile rispetto alla tabella di ricognizione dei regimi amministrativi che è più uno strumento utile per un approfondimento sono le indicazioni che sono riportate puntualmente sui singoli moduli. Andando a guardare tutti i moduli allegati ad una pratica noi potremo individuare la corretta tipologia di procedimento applicabile per quel caso specifico individuando le indicazioni riportate nella parte bassa dei frontespizi. In questo caso ad esempio stiamo vedendo il modulo B1 relativo alle attività di commercio al dettaglio su area privata e nella parte bassa ci dice che per tutti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita si applica sempre il procedimento in autocertificazione a zero giorni mentre per le grandi strutture di vendita in caso di apertura variazione del settore merceologico trasferimento e ampliamento si applica il procedimento in conferenza di servizi. Oltretutto vedete ci indica uno speciale che vuol dire di andare a controllare nell'articolo 18 delle direttive perché ci sono delle precisazioni specifiche per questo caso. Possiamo accedere ai frontespizi dei moduli dal dettaglio della pratica cliccando sul menu pratica moduli quindi possiamo visionare ad esempio nel modulo A1 azioni visualizza pdf e in questo modo visualizzeremo immediatamente il frontespizio del modulo vedete con l'indicazione della tipologia di procedimento applicabile in tutti i casi. È necessario tenere presente che le indicazioni che troviamo nella tabella di ricognizione dei regimi amministrativi e nei frontespizi del modulo si riferiscono sempre ad un singolo titolo abilitativo quando noi sappiamo che un procedimento unico su APE ricomprende una pluralità di titoli abilitativi che di per sé possono anche essere soggetti a tipologie di interdiverso quindi ad esempio io posso trovare di fronte a una scia edilizia con autorizzazione paesaggistica in cui l'endoprocedimento edilizio può seguire il procedimento in autocertificazione a zero giorni mentre per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica è necessaria la conferenza di servizi è quindi necessario mettere insieme le informazioni sui singoli regimi applicabili ai titoli abilitativi ricompresi nella pratica per individuare qual è l'iter che deve essere selezionato per la pratica nel suo complesso questo specchietto riporta la regola per cui si parte dal procedimento in autocertificazione a zero giorni che è applicabile solo quando tutti gli endoprocedimenti quindi titoli abilitativi connessi alla pratica seguono il procedimento a zero giorni se ce n'è almeno uno per cui si deve seguire il procedimento in autocertificazione a 30 giorni la pratica nel suo complesso seguirà il procedimento a 30 giorni se ancora abbiamo uno o più titoli abilitativi per per i quali si deve applicare il procedimento in conferenza di servizi tutto il procedimento unico deve seguire il procedimento in conferenza di servizi il sistema informatico regionale è oggi adeguato a questo principio secondo un sofisticato sistema che consente di suggerire all'interessato nel momento in cui questo presenta la pratica qual è la corretta tipologia di iter da selezionare a seconda dell'intervento che è stato scelto e di tutte le risposte che sono state fornite nelle condizioni iniziali e nella compilazione dei moduli nel concreto stiamo vedendo in questo caso la schermata di inoltro della pratica da parte del cittadino una volta completata la compilazione dei moduli e l'allegazione degli eventuali documenti ulteriori si arriva in questa schermata in cui il sistema suggerisce una tipologia di procedimento che in questo caso di esempio è quella del parere preliminare perché io ho selezionato nella fase iniziale di creazione della pratica appunto la richiesta di un parere preliminare l'interessato può anche cambiare la scelta che gli viene proposta io ad esempio potrei adesso selezionare autocertificazione a zero giorni ricevendo in questo caso un alert in cui il sistema mi avvisa che sto selezionando un tipo di procedimento diverso da quello consigliato dal sistema questo è utile per diciamo richiamare l'attenzione di chi compila la pratica nel caso in cui decida manualmente di cambiare la tipologia di iter suggerita in modo da approfondire effettivamente che sussistano le condizioni per cambiare la scelta che viene proposta in automatico un altro strumento molto importante per l'operatività quotidiana dei suape e anche per i cittadini che presentano pratiche come così come professionisti è la tabella con l'albero degli interventi consultabile nelle pagine del supporto sul sistema suape che da una fotografia della configurazione completa degli interventi disponibili sul sistema con tutte le opzioni collegate quindi con tutti i moduli associati ai vari interventi le condizioni gli endoprocedimenti e via dicendo l'albero degli interventi può essere trovato accedendo al portale salvegna impresa sportello unico supporto quindi assistenza per il suo ape e venti terzi qui troveremo la tabella con l'albero degli interventi che è possibile scaricare in locale e quindi aprire aprendo il documento ritroveremo un foglio di calcolo suddiviso in diverse sezioni nella prima sezione edilizia troviamo tutti gli interventi riferiti ad interventi edilizi con relativamente i moduli associati le dichiarazioni specifiche all'interno dei moduli con gli allegati specifici e le condizioni e gli endoprocedimenti associati a ogni intervento stessa cosa nella sezione attività produttive dove troveremo tutta la suddivisione in settori in attività e in specifici interventi anche qui con i moduli le condizioni gli endoprocedimenti associati nel foglio delle condizioni potremmo vedere con i numeri di ciascuna condizione qual è la domanda che viene posta quali sono le opzioni di risposta e quali sono gli output associati ad ognuna delle risposte e ancora nell'ultima sezione vediamo l'elenco degli endoprocedimenti con i relativi codici l'ente competente e la classe di intervento associata all'endo procedimento che è utile per la corretta configurazione dell'ufficio o comunque dell'ente terzo che ha competenza specifica per materia